Fineco o Direkta? Qual è la piattaforma migliore in assoluto per andare a investire i nostri risparmi? Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e in questo canale parliamo di investimenti, finanza personale e anche di cripto. Se siete interessati a questi argomenti vi invito quindi ad iscrivervi al canale e anche lasciare un bel mi piace a questo video. Quest'oggi siamo qui per parlare dei due broker di investimento, Direkta e Fineco. In realtà uno è un broker e l'altro una banca, però alla fine interessano a noi investitori per il semplice motivo che ci possono permettere di investire in strumenti finanziari, quindi ci fanno da intermediari entrambi. E oggi andremo a vedere quali sono le peculiarità di ognuna delle piattaforme e quale alla fine conviene per ogni tipo di investitore. Chiaramente una piattaforma può convenire a qualcuno e può non convenire a un altro, dipende sia dal reddito che si va a percepire o dall'operatività che si vuole andare a svolgere. Partire subito a delineare la prima differenza, ovvero il fatto che uno è una banca e l'altro un broker. Parliamo infatti di una tutela che abbiamo avendo i soldi in una banca, ovvero il fondo di tutela interbancario. Questo fondo va a coprire i nostri depositi fino a un totale di 100.000 euro, quindi in caso di fallimento della banca tutti i nostri soldi che abbiamo su un conto corrente, e sottolino su un conto corrente qui non investiti, quindi i soldi che abbiamo liquidi per essere chiari, rimarranno sicuri. Intanto scusatevi per il cambio di luminosità nel video, mi è uscito il sole che mi puntava diretto in faccia e ho dovuto prendere delle precauzioni. Torniamo ora al nostro fondo di tutto l'interbancario. Come vi dicevo prima, tutti i depositi e tutti gli euro che abbiamo liquidi sul conto corrente di una banca, sotto i 100.000, ci verranno rimborsati anche in caso di fallimento della banca. Il broker non ha questa possibilità. Infatti Directa, per quanto riguarda le liquidità, offre una protezione che arriva fino a 20.000 euro. Quindi comunque c'è una protezione, abbiamo una sicurezza in caso di fallimento anche di quest'ultima piattaforma, però è di molto inferiore rispetto alla precedente, parliamo circa di un quinto. E la principale differenza tra le due piattaforme, secondo me, è questa. Poi si può andare a parlare dei costi e dell'operatività che c'è su entrambe le piattaforme e vedere appunto quali sono le differenze. Fineco è appunto conosciuta per essere la piattaforma praticamente migliore in Italia per investire, ma allo stesso tempo anche la più costosa. Quindi è una piattaforma su cui vanno, diciamo, le persone più benestanti e che possono fare investimenti più grandi in modo da ammortizzare quelle che sono le commissioni. Directa invece è la piattaforma opposta, ovvero la piattaforma che ha i costi inferiori, ma è allo stesso tempo sicura perché è un'azienda quotata in borsa ed è anche sorvegliata dalla Banca d'Italia, dalla Consob e tutte le autorità, oltre che dal mercato finanziario che appunto se notasse dei problemi all'interno di un'azienda o di una piattaforma andrebbe a svalutare tantissimo le azioni, effettuando delle vendite allo scoperto e quindi capiremo subito che ci sono dei problemi. Le azioni di Directa ovviamente in questo periodo non stanno facendo una grande performance come in realtà non la sta facendo nessuno, però comunque si mantengono su livelli buoni, non è che sono calate del 99% come alcune aziende durante quest'anno. Parliamo quindi di un'azienda solida che ha un bilancio positivo che in realtà abbiamo anche analizzato nello scorso video e che vi lascio qui in alto a destra nelle schede. Se volete recuperarlo è una recensione completa di Directa che ho fatto dopo due anni di utilizzo. Infatti io ho utilizzato sempre Directa e ho iniziato da lì, poi vabbè mi sono spostato anche su Fineco ed è oggi per questo che vi faccio un confronto altrimenti non potrei ovviamente farlo se non conoscessi bene due piattaforme ma questo è per dirvi che appunto Directa è una piattaforma solida anche se non è una banca. Directa e Fineco sono sorvegliate dalle stesse autorità, parliamo infatti della Consob, della Banca d'Italia e tutte le autorità italiane in più appunto sono entrambe codate sul mercato finanziario quindi da questo punto di vista sono praticamente alla pari. Poi è ovvio che se pensiamo a Fineco è una banca che quindi fa diverse attività rispetto alla singola attività di intermediazione che offre Directa infatti una banca per esempio può anche fornire del credito, può andare a fare degli investimenti ci sono veramente tantissime cose che una banca può fare mentre l'intermediario come Directa semplicemente vende o meglio permette al suo cliente che quindi in questo caso sarei io, potresti essere tu di andare ad acquistare strumenti finanziari sul mercato fornendo appunto una piattaforma che intermedia il tutto e guadagnerà grazie a tutte le commissioni che ottiene tramite questi scambi la banca ovviamente fa la stessa operazione in più ne può fare altre come vi dicevo prima per quanto riguarda i nostri investimenti se noi per esempio avessimo investito 150.000 euro in azioni della Apple vi faccio un esempio campato in aria in ogni caso che falliscano le due piattaforme a noi non cambia nulla perché noi abbiamo le azioni che sono nominative quindi sono intestate a noi e quindi in ogni caso come vi dicevo appartiene a noi quindi se fallisse l'azienda, l'intermediario tramite il quale noi abbiamo investito non cambia nulla ovvio che è un pochino scomodo andare a recuperare le azioni ma per legge noi abbiamo diritto a quelle azioni quindi le abbiamo in ogni caso tornando al discorso di tutela se noi avessimo 150.000 euro investiti in azioni Apple poi avessimo non so 30.000 euro di liquidità se fallisse la banca i 30.000 euro ci vengono ridati ma se fallisse Directa ce ne vengono ridati solo 20.000 perché appunto la tutela era di 20.000 e gli altri 10.000 rimarranno scoperti vi anticipo già che Directa appunto è la piattaforma con commissioni inferiori e quindi è la piattaforma che consiglierei magari che ha un capitale un pochino inferiore per esempio è quella che utilizzo io perché appunto non lavorando essendo solo uno studente non posso permettermi di fare chissà quale investimento ma con Directa investendo cifre molto basse è comunque possibile andare ad avere delle commissioni che partono da 1,50 euro e quindi magari già investendo 150 euro parliamo di una commissione dell'1% e quindi già un pochino si ammortizza su Fineco invece le commissioni sono molto più alte tra poco lo andiamo a vedere e per ammortizzare le commissioni su Fineco servirebbero investimenti molto grossi che appunto non sarebbero per tutti e questo è per dirvi magari che il piccolo investitore che va su Directa non avrà mai 30.000 euro liquidi sulla piattaforma e non ha nemmeno senso tenerne così tanti quindi nel momento in cui un investitore dovesse avere appunto mi dicevo 30.000 euro mi preoccuperà io di investirli o di mandarli su un conto corrente bancario in ogni caso ottenere 30.000 euro liquidi su un conto di Directa un conto di un broker non ha neanche troppo senso a meno che ovviamente non si sta aspettando un'occasione per entrare nel mercato quindi il mio consiglio è di stare attenti a questo rischio che c'è del fondo di tutela che copre appunto i broker e le banche e di cercare di star sotto è ovvio che parliamo sia di Fineco che di Directa come due piattaforme che in realtà non rischiano il fallimento anzi sono due piattaforme che hanno uno storico di decenni alle spalle Directa esiste ormai da più di 20 anni Fineco anche molti di più credo perché appunto le banche sono nate prima dagli intermediari immobiliari e quindi non è che stiamo parlando di una piattaforma che rischia di fallire da un giorno all'altro e quindi è meglio non tenere tanti soldi di qui di sopra parliamo di piattaforme che hanno uno storico incredibile che funzionano benissimo però è meglio sicuramente mettere i rischi avanti le piattaforme di Directa e Fineco hanno uno storico ultra decennale operano da tantissimi anni e operano sempre bene non hanno mai avuto problemi quindi in realtà tutto il discorso che vi sto facendo è per una questione di rischio di fare attenzione ma il rischio che falliscano è veramente molto lontano secondo me poi non prevedo il futuro però appunto come vi dicevo hanno i bilanci pubblici che potete guardare anche voi e sono aziende solidissime e stracontrollate parliamo ora delle commissioni delle due piattaforme Fineco per un ordine qualsiasi ci impone una commissione di 20 euro quindi se ne investissimo per esempio 100 euro in azioni ENI o 2000 euro in azioni ENI paghiamo sempre 20 euro di commissione che quindi nel primo caso copre il 20% del nostro investimento e vi posso già dire che non ha assolutamente senso fare una cosa del genere nel secondo caso invece parliamo dell'1% ed ha decisamente più senso come investimento da fare avendo una commissione rapportata all'investimento totale di questo importo per quanto riguarda Fineco invece abbiamo anche una commissione di 13 dollari sugli ordini che effettuiamo in America quindi tornando ad esempio delle azioni Apple di prima se effettuassimo un investimento di 100 o 2000 dollari avremmo sempre la commissione di 13 dollari poi lascio magari qui una piccola tabellina in pratica in base a quanto generiamo di commissioni durante il mese possiamo andare a ridurre il totale che paghiamo se facessimo per esempio 5 ordini con 20 euro di commissioni succede che abbiamo accumulato 100 euro di commissioni e quindi ci vengono scontati gli ordini successivi che partiranno da 9,95 euro parliamo qui di spese di commissioni davvero ingenti infatti arriviamo a toccare gli oltre 100 euro in un solo mese di commissioni che è qualcosa di veramente assurdo poi è ovvio che bisogna rapportarle a quello che si vuole investire perché se si investono 1000 euro e si pagano oltre 100 euro di commissioni è un problema se se ne investono 20.000, 30.000 ma in realtà anche solo 10.000 si pagano 100 euro di commissioni già è un'altra cosa parlando invece di directa la commissione si divide in tre abbiamo un piano semplice un piano variabile e un piano dinamico il piano semplice vi fa pagare una commissione di 5 euro a prescindere dall'importo e dall'investimento che fate quindi simile a finico come abbiamo visto prima però molto più piccolo l'importo infatti ne possiamo investire 1000 euro possiamo investirne 2000 3000, 4000 e pagheremo sempre 5 euro di commissione poi oltre una certa cifra mi pare oltre i 10.000 o forse 20.000 euro non mi ricordo la commissione sale un pochino arriva forse a 10 euro ma resta comunque molto conveniente per quanto riguarda invece dalle altre due piani di commissione abbiamo quello che è variabile che è quello che personalmente utilizzo anch'io che vi permette di avere una percentuale al posto di una commissione fissa e infatti è una percentuale che è dell'1,9 per 1000 quindi 1,90 euro su 1000 euro di investimento davvero una cifra irrisoria e addirittura impareggiabile direi perché non c'è nessuna altra piattaforma in Italia che costa così poco questo costo parte da un minimo di 1,50 euro infatti se ne investissimo 10 euro non paghiamo 1,9 per 1000 quindi tipo un centesimo ma paghiamo 1,50 euro vabbè era un esempio campato in aria però ecco se noi investissimo 150, 300 euro noi andiamo a pagare 1,50 euro di commissione che comunque è un prezzo onesto nel momento in cui andate a investire ovviamente vi consiglio appunto di fare dei calcoli ecco non investite 30 euro in una volta non investite 10 euro in una volta altrimenti la commissione di 1,50 euro impatta di parecchio cioè su 10 euro impatterebbe del 15% allora non ha senso fare così piuttosto accumuliamo i soldi per esempio arriviamo ad accumulare 300 euro così che la commissione di 1,50 euro corrisponde allo 0,5% che è bassissimo investiamo 150 euro e la commissione corrisponde all'1% che anche qui rapportato non è malaccio poi andando a salire appunto intorno agli 800 euro la commissione minima di 1,50 euro si toglie ma subentra quella dell'1,9 per 1000 in questo modo aumenterà un pochino la commissione più spendiamo quindi se noi spendiamo 1000 euro di 1,90 se ne spendiamo 2000 è di 3,80 e così via invece la commissione minima diretta la lasciava per avere un minimo di guadagno dai piccoli importi e dai piccoli investimenti infine abbiamo il piano dinamico che consiste in una riduzione di commissioni in base all'aumento dell'operatività infatti si parte da 8 euro per ogni acquisto e si arriva fino a 1,50 euro per ogni acquisto quindi per chi fa tante operazioni può essere conveniente anche se in realtà partendo da 8 euro non so per chi possa essere conveniente magari per chi fa operazioni di alto importo dipende molto dall'operatività di ognuno se uno opera con grossi capitali e molto spesso questo è il piano giusto se uno opera con grossi capitali e non molto spesso secondo me quello giusto è quello semplice quindi investendo 2000, 3000, 4000 euro investiamo e paghiamo solo 5 euro di commissione è veramente buono mentre per quanto riguarda chi fa investimenti raramente se ne dire e gli fa di piccoli importi consiglio il piano variabile secondo me è migliore il piano variabile poi consiglio ognuno di fare i propri calcoli andando sul sito sia di Finico che di Directa trovate tutte quelle che sono le informazioni che vi servono per investire quindi riassumendo Fineco a ogni operazione vi costerà 20 euro a prescindere dall'importo e Directa vi dà invece una possibilità di scegliere il minimo è 1,50 euro a salire come vi spiegavo poco fa concludendo parliamo dei costi delle piattaforme ovviamente ogni piattaforma ha un bollo perché il bollo è una tassa non è un costo della piattaforma quindi vi verrà fatto pagare in automatico e ammonta lo 0,20% dei vostri investimenti e appunto vi sono soldi che vi vengono tolti dal conto liquidità in automatico sia su Fineco che su Directa perché come dicevo è una legge italiana e invece parlando di costi per utilizzare le piattaforme su Fineco si pagano 6,95 euro al mese quindi c'è una specie di abbonamento e questi soldi vi servono per mantenere il conto corrente il conto investimenti eccetera invece per quanto riguarda Directa non c'è alcun costo totalmente gratuito quindi anche per questo che secondo me Directa è più adatto a chi fa investimenti più piccoli o chi investe raramente semplicemente vi permette di fare collaborazione ogni tanto a un costo molto basso è comunque una piattaforma sicura è una piattaforma importante che vi dà appunto la possibilità di operare Fineco invece vi applica questo costo oltre a delle commissioni più alte però ultimamente ne ho lanciato un'offerta molto interessante per i ragazzi che hanno meno di 30 anni questo vi permette di risparmiare sul canone mensile che infatti diventa gratuito e sulle operazioni di investimento che vedono la commissione passare da 20 euro a 2,95 euro quindi per voi è possibile fare investimenti di qualsiasi importo pagando solo 2,95 euro questa è davvero un'ottima offerta per tutti i ragazzi giovani che magari lavorano già e quindi vogliono iniziare a investire vogliono farlo su una banca come quella di Fineco e quindi possono farlo con i costi molto ridotti sono comunque superiore a Directa perché se investissimo 1000 euro su Fineco o 1000 euro su Directa su Directa paghiamo 1,90 euro su Fineco paghiamo 3 euro quindi sì è più alto il costo però per chi preferisce sta comunque investendo su una banca e magari poter utilizzare anche Fineco come proprio conto per far accreditare lo stipendio o per pagare le bollette o quello che volete fare oltre al fatto che potete anche investire quindi avere tutto in un'unica piattaforma questo in realtà è un po' un paradosso dal punto di vista la diversificazione perché sarebbe meglio tenere i soldi magari in conti diversi per diversificare un po' il rischio comunque anche della banca però in realtà è un rischio che è molto molto piccolo non è così importante diversificare in questo modo è più importante diversificare sugli investimenti secondo me ma comunque un'occhiata un'attenzione anche a questo la dai sempre quindi riassumendo secondo me Fineco e Directa sono le piattaforme migliori che abbiamo a disposizione noi italiani e le ho provate entrambi mi trovo bene con entrambi Directa è sempre stata criticata per la sua interfaccia grafica che non è il massimo però ultimamente si è aggiornato ho fatto anche un video che vi lascio qui in alto destro nelle schede e potete anche trovarlo sul mio canale nel quale mostro tutta l'interfaccia e come funziona secondo me è migliorata di parecchio adesso ci devo prendere la mano perché ovviamente è cambiata da capo e devo usare una nuova piattaforma però è stato fatto un bel lavoro che secondo me potrà essere ancora migliorato col tempo e offre dei grafici comunque delle modalità di utilizzo che sono parecchio migliorate rispetto a prima Fineco è già un'ottima piattaforma grafica in realtà non è il massimo neanche quella di Fineco però parliamo di piattaforme per investire non di piattaforme per non so ascoltare la musica o guardare i video che quindi sono curate alla perfezione in conclusione direi quindi che Fineco può essere una piattaforma adatta magari a chi vuole più sicurezza dal punto di vista del fondo di tutelina bancaria che vi dicevo in inizio video quindi vuole essere più tranquillo e poter depositare anche 30-40 mili euro liquidi sul conto o l'alternativa è la migliore per chi ha redditi risparmi più ampie quindi può fare investimenti più grossi alle commissioni Direct invece è l'opposto permette di investire a tutti con costi veramente molto bassi e con praticamente la stessa sicurezza semplicemente c'è la limitazione del fondo di tutela che vi dicevo prima che è solo a 20 mila euro però con una gestione oculata del patrimonio e con investimenti che permettono di tenere una liquidità sempre inferiore ai 20 mila euro sul conto non c'è alcun tipo di problema in realtà appunto per piccoli investitori non penso sia un problema perché non so in quanti possano avere cifre così ampie sul conto da tenere libere Fineco come vi dicevo prima offre inoltre ai giovani una grandissima possibilità di investire a costi molto più bassi rispetto ai costi normali però rimane comunque più alta rispetto a Directa quindi a questo punto dovete valutare voi cosa preferite se magari volete utilizzare Fineco anche a fronte di un costo un pochino più alto se preferite utilizzare Directa risparmiare tutto quello che potete resta quindi a voi la decisione della piattaforma da utilizzare entrambe le piattaforme comunque sono di broker a regime amministrato quindi voi non dovete fare alcuna dichiarazione perché fanno tutto in automatico le piattaforme questo secondo me è il punto di vista più importante perché infatti vi permette di risparmiare la fatica di andare da un commercialista le preoccupazioni di scaricare dichiarazioni fare calcoli vedere quanto dovete pagare di tasse eccetera perché fa tutto in automatico la piattaforma che utilizzate voi potete stare letteralmente tranquilli non dovete fare nulla soltanto investire studiare in cosa investire e aspettare che i vostri investimenti vadano bene o che salgano e questo è quello che vi auguro quindi io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile se avete qualche domanda e richiesta per ulteriori video fatemela nei commenti noi ci vediamo al prossimo video e state in bene grazie a tutti